Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Tricky Towers. Io non porto mai puzzle game o giochi abbastanza di questo tipo, ma questo è davvero meritevole. Lo si trova in sconto ogni tanto su Stima 599, magari sui siti di chi si trova ancora meno. Ed è un gioco davvero particolare, ricorda il Tetris, ma con la fisica. Ed è un gioco che probabilmente in futuro porterò in una collaborazione con un altro canale. Ma non vi dico ancora nulla, magari si farà, magari no, non lo so, però potete sfidare i vostri amici. Io proverò una sfida, si può giocare anche online, oltre che in locale. È veramente figo e ve lo faccio vedere. Insomma, è un bel passatempo. Passatempo è la parola giusta, perché potete fare una battaglia online, potete giocare giocatore singolo, fare battaglie locali. Ed è interessante. Molto bello. È un passatempo, appunto, dicevo, perché è quel gioco veramente bello che nel momento in cui avete un attimo o non sapete cosa giocare, lo avviate e vi divertite. Va bene, iniziamo. Vedete che qua possiamo andare a scegliere la decorazione dei blocchi. Facciamo questa, perché siamo un po'... nel momento in cui sto registrando è il tema Halloween. E spondare avanti con i livelli. Ma io voglio iniziare da capo, così non faccio figure di murder. Si può spostare, si possono spostare i mattoni, si possono ruotare i mattoni, si gioca con le frecce, spingere i mattoni con la U e con la I. Magia bianca, magia nera, insomma, ci sono un sacco di cose, ma noi lo giochiamo molto semplice. Dobbiamo raggiungere l'obiettivo entro lo scadere del tempo. Allora, praticamente, è molto complicato, perché dobbiamo ruotare i blocchi, vedete che... Adesso voglio capire se sì, non mi ricordo più... No, non si può usare il mouse, vedete, possiamo ruotare i blocchi. Ma quello che qui dobbiamo fare attenzione è la fisica. Perché la fisica... Meh, ho sbagliato. Vedete, la fisica sta già facendo il suo corso in modo abbastanza bastardo. Ok, vedete che qua sto già iniziando a incasinarmi la vita. Eh, mannaggia. Ok. Immaginate con le sfide quanto ci si diverte. Ok, no, qui spia fuori proprio male. La partita viene persa nel momento in cui i blocchi cadono di sotto. Ok, abbiamo bisogno di fissare lì, perché sennò finisce giù tutto. Addio! Niente. No, qua non abbiamo perso, perché l'obiettivo non è perdere, ma è arrivare là, prima dello scadere il tempo. E quindi abbiamo perso male. Il bello è che le modalità cambiano, volta per volta. Quindi, vabbè, andiamo. Cerchiamo di farlo un po' più in modo logico e ragionato, così che... Ok, dai, adesso sembra... No, non devi... Ma perché devi pendere di là, cazzo? Ecco, questa è una bastardata, però... Ah, ma siamo andati già alla partita dopo? Ah, ok, non ci ha tenuto allora quella... Perdiamo adesso. No, abbiamo preso un malus. Insomma, un obstacro di malus. Ecco, il cosulice li fa cadere tutti. Non è che ci sia molta alternativa, vabbè. Niente. No, vedete? Ho saltato già la modalità 2. Andiamo alla modalità 3. Sono tutte cose che ho già superato, ma sono veramente difficili. Allora, praticamente, dobbiamo andare a mettere questi blocchi. Abbiamo... Qui invece abbiamo un numero di blocchi contati, che sono quelli che vediamo a lato, vedete? E dobbiamo riuscire a incastrarli senza però sforare quella linea. Cioè andare oltre quella linea, ma sembra... Questa è una cosa abbastanza semplice, direi. Il problema inizia adesso. Dove dobbiamo stare sotto? Speriamo che non cada, ma non dovrebbe. Infatti, ne ho fatto alla perfezione questa torre. Completata, perfetto. Andiamo avanti. Adesso cambia ancora modalità. Perché dobbiamo... Questa non ce l'avevo fatta a farla. Così abbiamo già solidificato un pochino la torre. Qua c'è il rischio che cada. Bisogna far veloce e piazzarla qui. Ok, va a riequilibrarsi. E la mettiamo qui. Mannaggia, 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 mannaggia. Mannaggia, non possiamo, non possiamo. Eh, no, abbiamo sforato. Lo provo ancora una volta, poi proviamo magari la sfida online. E vediamo se ci sono giocatori di mattina che ci stanno giocando. Ma questo l'abbiamo appena fatto. No, 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 no. Mettilo lì. Eh, no. E' che quello... No buono, no buono, no buono. Dai, lo proviamo ancora una volta. E ogni tanto, ragazzi, mi piace portare anche giochi del genere. Eh, perché, comunque, si vede che è fatto bene. Si vede che è originale. Eh, scusate, ma sì, lo metto qui così? Eh, infatti. Eh, sì. Ci sono fatta. Era una costruzione un po' particolare. Allora, seleziona test. Andiamo indietro. Con il tasto esco. E' detto che ci sono poi un sacco di sfide. Diverse. C'è anche il negozio. Vabbè, qua apre Steam, quindi non ve lo faccio vedere. Ci sono dei pack scaricabili del DLC. Battaglio online. Vediamo se troviamo qualcuno. Trova torne online. Vediamo. Ricerca partite. Vediamo. Perché la mia valutazione è... Se troviamo... Cioè, è uscita una roba simile anche per Switch. Tetris, si chiama quello. 99, mi pare. Dove è un battle royale dove ci si sfida Tetris. 99 persone. E man mano vengono eliminate. Cosa che mi domando è... Qua, se troviamo della gente con cui giocare... Potremmo trovarci di fronte a un capolavoro. E' una cosa che non avevo ancora provato. Abbiamo già trovato un giocatore. Ovviamente, ne sfidiamo uno solo. Non ho trovato nessun altro. Almeno speriamo. Lui però è un livello gran maestro dei maghi 3. E io sono uno stragone principiante. Quindi, insomma, non è stata una selezione molto pari. Io metto il via. Non aspetta in più nessuno. E andiamo a sfidarlo. E andiamo a prenderci la paga. Da lui. Poi c'è la possibilità, con i blocchi, di spingerli. Cioè, praticamente... Tasto E possiamo dare una botta mentre appoggiamo il blocco. Riusciamo a metterlo qui. Sto qua sta giocando un po' di murder. E ci va bene. No, ho sbagliato! Ehm... Possiamo metterlo qui da fastidio? No, sì, 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 dai, va bene. Lo appoggiamo qui. E poi lo appoggiamo qui, questo. Questo qui, no? È una murder. Questo ci sta bene qui. Non so chi sta andando... Mamma mia, sembrava essere partito male. Sta mettendo su una torre spettacolare il tizio di là, eh. Si vede che è proprio un pro... ...professionista. Nooo, nooo... Vabbè, vabbè. Vediamo se riusciamo a ristabilizzare la torre un pochino. A ridargli un po' di baricentro. Sono veramente scasso da fare paura. Adesso lo appoggio qui, così almeno non dà fastidio. Nooo, ma nooo. Sta andando veramente male. Cerchiamo di centrare la torre. Dargli un po' di stabilità. Nooo, molto male. Ma nooo. Ma che cacchio sto facendo? Guardate quello. Mamma mia, era proprio il gran maestro di noi altri, insomma. Vabbè, insomma, mi ha asfaltato. Sì, sì, sei molto bravo. È indie gameplay, da fare schifo. Bravo! Sopravvivenza speciale. Cacchio, ma so. Ci sono quanti 66 pezzi da mettere? Va bene, ho già idea di dove mettere questo. Ma va giù? Ci va? No? Sì? Perfetto. Quanto è bravo sto qua? Avete visto che velocità sta mettendo i pezzi? Ah, vabbè. Boom! Ah, praticamente tipo mi ha lanciato un incantesimo. No, 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 bilancia! Adesso provo a dare una spinta, guardate. Provo a dare una spinta di là e vedete che ha dato una botta scendendo. Poi c'è la magia nera, la magia bianca, che non so cosa si... Ah, ok. Posso... Posso usare la magia per... O sono cose che mi stava mandando lui? Eh, sarà da capire, da imparare bene perché sembra essere un gioco davvero molto, molto figo questo. Ho vinto! Si è incartato da solo e ho vinto? Fantastico. Attenzione, ce la stiamo giocando, eh? Sto battendo il gran maestro di stocca... Eh, di... Di noi altri. Va bene, andiamo. No, ovviamente scherzo, no. Questo qui è bravo, davvero bravo. Molto bravo. Se lo incastrassi qui... E poi lo metto qui. Cioè, si è ravveduto e sta giocando con più... Attenzione ora. Non lo so. Voglio vedere se... No, no, no! 3, 2, 1... Ho vinto! No, ho perso. Perché è caduto un pezzo. Questo tizio qui deve riuscire... Eh, no, vince lui. Vince lui. Bravo, bravo! Anche se... Ci ho sperato per un attimo. Si, ha vinto. Decisamente ha vinto. Ha piazzato molti più pezzi di me. Bravo! Quindi, alla fine... 2, 2, 1, 1, 1, 1... Ok, ha quasi vinto. Non so in base a cosa per il punteggio sarà da studiarci. Un po' come Peggle. Che non capisci niente finché non vedo il pennello. Ok, gli bisogna arrivare il più in alto possibile. Ok, è chiaro questo. Ok, iniziamo. Tac. 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 Un po' come Jenga. Insomma, al principio è anche quello. Voglio dargli più stabilità. Il mio... Ok. Vediamo se così... Aregge. No, non aregge. Ma va bene. Non è lo stesso. E qua. Eh... Devo dargli un po' di appoggio qui. No? Sì, perfetto. Così andiamo a stabilizzare. Bene. Adesso noi non stiamo qua a fare cose... Do... Do centralità... Alla costruzione. Vediamo se riesco a tenerla in equilibrio o no. Però... No. Così direi che potrebbe tenere. Punto un po' di qua. La vado a ristabilizzare. La... Punto di qua. Che tiene su. No, 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 no. Esisti. Beh, però devo dire che mi sto divertendo. Anche se sono veramente scarso. Perfetto. Bellissimo. Lo stabilizzo un pelo di qua. Siamo più o meno pari. E ce la stiamo giocando. Potrei anche fare il colpaccio e vincerla. Questa. Illuso che sono. Ok. La regge è un po' di là. Pelo di qua. Questa però va giù. E vabbè. Che cazzo. Ok. Bravo. E sto mettendo un po' ad cazzo. Ma... La torre tra poco fa una gran brutta fine. No. Oh no. Non esisti. Ti prego. Non esisti. Lui non sta avendo problemi. Io sì. L'attento in modo scorretto. Ma non ce la faccio. Stabilizza. Vai. E questo pezzo in diagonale qui. Guardate. Adesso provo a spingerlo. No. Non ce l'ho fatta. Lo spingo adesso. No. Vedete che spingo di là? Che mi sta dando fastidio. Boh. Niente. Si le parte da capo. Complimenti. Perché ho giocato. Io ho giocato un po' così. A fare il pirla. Però... È davvero. È davvero figo come gioco. Può dare le sue soddisfazioni. Soprattutto nelle sfide online. E poi i campionati con gli amici. Perché molto spesso. I giochi che intrattengono. In multiplayer. Sono questi. E non altri. Il divertimento immediato. È una cosa che abbiamo imparato. No. Abbiamo disimparato. Più che altro. E... E spesso si cerca la grafica. Si cerca le features. E quando invece non ci rendiamo conto che... Una sfida Tetris. È una sfida in cui si usa anche l'intelligenza. Bravo. Bravo. Hai giocato bene. Me la sono... Sì. Poi sarebbe stato più figo. E fossimo stati in quattro. Perché la graduatoria non era primo o secondo. Ma primo, secondo, terzo, quarto. Un po' la... Mario Party. Insomma. Però ha vinto lui. Io ho preso un po' di esperienza. Salire un po' di livello. Però insomma ci siamo divertiti. Questo è Tricky Towers. Ve l'ho fatto vedere. Ha fatto un livello. Un livellino. Bravo. Complimenti. Non so poi se effettivamente fosse un... Notizio. O meno. Però, senz'altro, il gioco è figo. Tricky Towers era questo. Fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate. Spero di avervi considerato un gioco utile per il vostro tempo libero. Passatempo. 5,99 scontato. Se no costa 14,99. Ripeto, sui siti di chi magari trovate qualcosa. Alla prossima ragazzi. E ciao ciao.